Raimond, sei tu davvero? La BSA, un po' troppo tardi. Che diavolo ci fa la FBC qui? Rispondimi Raimond! Non sono tenuto a risponderti. Non hai alcuna autorità su questo? Non è il momento di litigare, dobbiamo... Lascia perdere. Non sapete neanche perché siete qui o chi combattete. Raimond, fermo dove sei. Non cambierà niente se non vi sporcate le mani. È così anche la FBC è sulla nave. Che sta succedendo? Stiamo agendola cieca. Dobbiamo esplorare la nave per trovare delle risposte. Non che l'idea mi riempie di gioia. Andiamo di qua. Una bella piantina. Le armi. Andiamo di qua a vedere se c'è qualcosa. Qualche munizione. Eh che palle voi però. Morto. Ricarica. Chiave timone. Ok. Bene. Munizioni. Efe. Altra... Questa roba. Accessori di modifica. Ok. Ma io in teoria potrei anche... Modificare per soluzione. Altra roba non c'è. Ok. Andiamo a te. Efe. E via. Andiamo qua. Efe. Chiave timone. Buono. Qua non c'è nessun mostro. Meno male. Che sta roba? Emblema. Ok. Efe. Efe. Storia del quinto. Vabbè. Tonnell... Tonnellaggio. Bla bla bla. Questa... Bla 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 bla. Bla 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 bla. Vabbè. Non interessa. Ok. Questa munizione. Non interessa qui è tutta. Vabbè. Andiamo. Non c'è nient'altro. Dove è andata. Aspetta Gino. Qui c'è una mappa della nave. Eh. Giro prima. Mappa da... Ok. Benissimo. Oltre il salone dovrebbe esserci una sala comunicazioni d'emergenza. Dovremmo raggiungere la sala comunicazioni d'emergenza e provare a contrattare il cugino. Facciamo un parentale qua. Non funziona. Eh. Fidiamo se funzionava. E' troppo bello se funzionava il sensore. Eh. Che palla. Ricarica. Ricarica. Grazie. Uffe. Non c'è una cippa. Vediamo qua se c'è qualcosa di interessante. Non c'è una cippa. Bene. Vediamo qua. Questa ha tre cippe. Questa cittadina. Miracca tu. Non c'è qualcuno, qualche mostriciatto. Non c'è niente. E qua raggiungiamo. non c'è un puff, un puff non c'è, andiamo a ricaricare questa roba, si, e andiamo di qua, F, ah funziona, si è scensato al pinamento, ci sei? No, cabina inferiore, cabina superiore, non c'è un gioco, non c'è un gioco, ci sei? No, no, non sbaglio niente, riesco. Porta comando lo portiamo giù. Posso spararti? No. Questa è quella, non sbaglio? Questa è una scuola, non sbaglio. Questa è una scuola, non sbaglio. Lo scuola di spettacolo, non sbaglio. Ehi, non sbaglio. Mi bravo, non sbaglio. Allora, non sbaglio, non sbaglio. Si, non sbaglio. Allora, non sbaglio. Qua non c'è una cippa, non c'è niente, qua non c'è niente, non c'è niente, andiamo nell'armario, non c'è niente, ok, andiamo via, non c'è una banana, c'è qualcuno? Non c'è niente, andiamo a 301, uuuuh, affanculo, e mori, 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 brutta bestiazza, brutta bestiazza, grazie, non c'è niente, sei sempre lontano, eh, non c'è niente, la mia stanza, la mia stanza, la mia stanza, Pent´s e non c'è niente, non c'è niente, che ne meno, quindi non c'è niente, non c'è niente, stolveva 산 rescatelli qui, ti va, non c'è Niente ,ee niente, non c'è, minuto, non c'è niente, né niente, non c'è niente, non c'è niente ! Quanto avevo una medicina? Ho solo un colpo. E' schifo. Ci sono munizioni qua? Non c'è una cippa.